Il mondo delle applicazioni low-code consiste nello sviluppo di applicazioni web sfruttando dei tool di configurazione, evitando quindi gli sviluppi custom o gli sviluppi from scratch. Questo ha dei notevoli vantaggi, in primis la rapidità dello sviluppo, è possibile portare delle aziende che oggi non hanno delle competenze in ambito low-coding per lo sviluppo del software in tempi molto più rapidi e sviluppare delle applicazioni con un time to market di almeno 5 volte superiore rispetto a quello di uno sviluppo custom. Inoltre è possibile anche ridurre tutti quelli che sono i rischi legati alla sicurezza e all'integrità del dato. Il mondo della low-code application platform è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, tranto che tra il 2022 e il 2021 è cresciuto del 65% e si prevede che abbia una crescita annua composta del 23% nei prossimi 5 anni.